Stavo dicendo nella live, buonasera a tutte quelle persone che dicono che la frigidrice d'aria fa male. Signori ma da quanti anni che stiamo usando il microonde? Per me fa più male il microonde che la frigidrice, che poi di frigidrice non ha proprio niente e non è altro che un forno in miniatuffo. Il mio è un po' più particolare, è molto più pratico. Questo qua c'è una griglia, una pentola all'interno, tutto particolare. E l'apertura è dall'alto, ma poi se vogliamo pensare tutte le cose che ci fanno male, chissà che cosa ci sta nell'aria, nel circo. Mia moglie è una delle vittime del presidente del campo. Le persone che si trovano al quarto stadio gli fanno un'analisi che ora non mi ricordo il nome preciso. E questa analisi vi dirà che il cancro se è ereditario oppure viene dall'aria, dalla nostra vita. Nel mondo in cui viviamo, è risultato che non veniva dal... è risultato che non era del... è ereditario. Ma è... l'ha preso e basta. Quindi di che cosa stiamo parlando? Buona serata e forza Napoli! Grazie! 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 Grazie!